Gandolfo Domenici, professore associato di marketing e di business systems all'Università degli Studi di Palermo e promotore della lettera inviata al Consiglio d'Europa, lettera contro l'obbligo di Green Pass nelle università. Lei è anche stato promotore della lettera dei mille accademici italiani, per intenderci quella che è stata poi sottoscritta anche dal professore Alessandro Barbero, che poi come abbiamo visto la cui contrarietà diciamo al Green Pass è stata anche oggetto di dure critiche. Partiamo un attimo dai numeri. Ad oggi quanti sono i firmatari degli appelli contro il Green Pass da lei promossi? Quello al Consiglio d'Europa erano 36 e poi l'abbiamo chiuso perché è stato fatto quello in una settimana. Era proprio per dare subito un segnale d'urgenza, eravamo a Ferragosto, ho trovato 36 colleghi da nove paesi diversi appartenenti al Consiglio d'Europa ed è stata mandata subito dopo Ferragosto. Mi pare che fosse stata mandata il 21-22 agosto, una cosa del genere, è stata spedita via fax dall'avvocato Giulio Marini, è impressionante che il Consiglio d'Europa non riceve pecc, cioè fax, dall'avvocato Giulio Marini che l'ha inviata, che è stato il redattore anche della parte giuridica di questa lettera. Poi altri numeri, numeri dell'Università di Palermo non li guardo da un po', però eravamo arrivati a circa un poco più di un centinaio di studenti e un poco più di una dozzina di professori e altrettanto di amministrativi, quindi non molti, anche perché c'è stata poi una grossa resistenza. In realtà quella lettera non c'è stato bisogno di consegnare al redattore perché ci siamo risposti tramite giornali, come molti avranno visto, diciamo direttamente, quindi diciamo il problema dell'invio formale non è mai avvenuto. Quella dei professori, l'ultima volta che l'ho visto, ho detto dei mille perché più o meno anche Garibaldi non erano proprio mille i Garibaldi, quindi diciamo sono qualcosina in meno, l'ultima volta che l'ho visto era mi pare 940 o una roba del genere, però può essere che mentre stiamo parlando sono arrivati a mille, non ho controllato subito prima, però diciamo arrotondati un migliaio, un migliaio. Il problema dei numeri è che i numeri non sono grandi perché molta gente intanto ha paura di esporsi e questo non ha idea di quanti colleghi, oltre a quelli diciamo pro università, governo che mi hanno attaccato, ce ne sono stati altri che dicono tu hai ragione ma io non voglio firmare nulla perché non mi voglio esporre. Questa stessa cosa penso che non avvenga soltanto tra i professori universitari ma penso che avvenga ovunque, persino in Parlamento, ne dico di più, perché mi risulta pure che si sono onorevoli, che sarebbero pure d'accordo e che non lo dicono perché uscire troppo apertamente in campo chiaramente creerebbe problemi all'interno dei loro partiti. Perfetto, allora dunque anzitutto dobbiamo fare questa premessa che oggi come oggi è diventata purtroppo necessaria, lei non è un Novaxi. No, non voglio fare come come fanno in televisione, io sono vaccinato dovete vaccinarvi dopodiché ora posso parlare, no perché no anche perché io sulla domanda sono vaccinato o meno non rispondo perché nessuno dovrebbe rispondere, è una delle cose su cui ci battiamo è proprio questa. Questi sono dati sensibili, una volta che è appurato, che è ormai appurato e sfido chiunque a dire il contrario portandomi delle prove, che anche i vaccinati possono contagiare. Ora possiamo decidere in che misura la metà dei non vaccinati è uguale, c'è chi addirittura dice di più dei non vaccinati, ognuno dice la sua, però un dato di fatto è che il vaccinato contagia. Quindi al momento che può contagiare il problema è soltanto della persona che si vaccina o meno, che se decide di vaccinarsi o meno, non è più un problema di qualche cosa che debba essere pubblico perché non c'è nessun motivo di pubblicizzare, di fare queste campagne in questo senso. Esatto, lei poco fa ha anche nominato l'avvocato Giulio Marini che è esperto in diritto internazionale comunitario che insieme a lei ha promosso appunto l'appello al conflitto. Sì, lo facciamo tante cose. E anche lui non è Novax, lo possiamo dire. No, no, lui non è Novax, ma proprio, è stato pure recentemente l'avevano invitato in televisione, facciamo una trasmissione a boccati Novax e Provax, bip, perché dico non ha... Allora, questo Novax e Provax è una costruzione fatta per metterci l'uni contro gli altri e per creare dei veri e propri ghetti, per creare delle vere e proprie minoranze, cioè andare a fare una specie di genocidio del Novax, ecco, in tra virgolette, ma capito, cioè dobbiamo distruggere qualunque... Ecco, esatto, dico, allora questa è una... Allora, che cosa è? Il Novax è quello che è contro tutti i vaccini, qualunque vaccino, per chiunque. Però nella bolla dei Novax, di quelli che non sono proprio contrari ai vaccini, sono stati messi anche queste persone, questi gruppi di persone che non sono diffidenti, diciamo, in quanto... Prudenti, prudenti. Nuova tecnologia, quindi la diffidenza ci può anche stare, però non essendo un vaccino obbligatorio rimane... In teoria non dovrebbe esserlo, questo è il punto, il punto nodale è quello. Non è ancora obbligatorio, diciamo. Praticamente che per i sanitari, per i quali obbligatorio è una cosa che non esiste, perché se uno va a leggere il decreto legge, è poi diventato legge, dice che è obbligatorio la vaccinazione per l'immunizzazione dall'infezione da SARS-CoV-2. Ora, il SARS-CoV-2 è il virus, non è la malattia. Questi vaccini evitano che il virus diventi Covid, ma non evitano il contagio. Le stesse case produttrici non hanno mai detto che questi vaccini prevenivano il contagio, non l'hanno mai dichiarato. Le evidenze che ci sono, almeno fino ad oggi, dimostrano che il contagio, il vaccino, non limita, diciamo, il contagio da vaccinato a non vaccinato o da vaccinato a vaccinato. A vaccinato, ci sono tanti esempi. Queste sono questioni poi mediche e scientifiche che noi ci siamo permessi un attimo di sfiorare. A noi interessa qualcosa che può capire anche uno con la terza media, cioè posso contagiarmi se ho fatto il vaccino e posso contagiare sì o no? La risposta è sì, punto. Poi, la carica virale, quanto è, in che percentuale, dico, quella non è competenza mia e vedo che anche i colleghi medici, biologi e virologi sono alquanto confusi, perché ognuno dice una cosa diversa, sinceramente. Quindi non penso che nessuno possa affermare con certezza, come dicono spesso, scientifica. Ecco, questa è una bestemmia. La certezza scientifica è una bestemmia, perché la scienza non è né certezza, né credo, né fede. È esattamente il contrario e cambia e si evolve con il dubbio, perché se no mettiamo Galileo all'inquisizione. L'appello però, l'appello che voi avete promosso, lei appunto, l'avvocato Marini, riguarda gli aspetti invece, altri aspetti, quindi non medico, non scientifico, ma piuttosto le criticità del Green Pass in sé per sé, ci spiega meglio appunto... Allora, la parte scientifica è quella che ci siamo detti, non va oltre quello ovviamente, dico dato per scontato che intanto esiste un pericolo comunque di contagio, perché esiste nonostante i vaccini, quindi non c'è neanche un motivo, diciamo, di salute pubblica, dicendo no, vaccina il ventenne così non contagia il nonno, no, lo contagia lo stesso. Quindi non è questo che l'impedisce di contagiare il nonno. E allora il problema qua era poi di diritti, perché c'era una serie di diritti che sono stati violati, primo che salta la mente il diritto allo studio. Se io non posso entrare all'università senza il Green Pass, o beh, è chiaro, il Green Pass io posso averlo anche per altri, o se sono guarito, va bene, o se sono vaccinato, o se mi faccio il famoso tampone o test. Bene, perché allora il vaccino è gratis, il test no. Quindi se tu mi dici che io, uno studente, per usufruire del suo diritto allo studio, deve pagare col prezzo calvierato 45 euro a settimana, non sono pochi in quattro settimane in un mese per uno studente, chiaro, magari che viene da una famiglia, magari che ha il monoreddito di 1000-1200 euro al mese, che ha due figli che vanno all'università. Quindi il diritto allo studio, che pure la nostra Costituzione dice, non era rivolta alla nostra Costituzione, ma era rivolta a quelli che sono i diritti della CEDU, che sono quelli che poi il Consiglio d'Europa deve tutelare nei vari stati, nei vari 47 stati che da cui appartiene, veniva violato. Come veniva violato? Il diritto alla non discriminazione, perché dato che la risoluzione del Consiglio d'Europa dice che non si può discriminare in nessun modo, né obbligare, né discriminare in nessun modo, né diretto né indiretto, neanche addirittura tramite i media, si figura, io mi metterai davanti una giornata davanti alle nostre televisioni per vedere quanto è discriminato il criminale Novaz, è giusto? A quel punto c'è anche una discriminazione, perché se io faccio una mia scelta, vengo discriminato e mi viene vietato, diciamo, se non pago l'accesso a qualche cosa, a parte poi il diritto al lavoro. Quindi, diciamo, questi diritti che sono tutelati, oltre che, come sappiamo, la nostra Costituzione, ma la lettera non mirava a quello, ma anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, chiaramente che è legata al Consiglio d'Europa, che dovrebbe essere l'Assemblea che promuove quei principi all'interno di tutte le assemblee parlamentari degli Stati appartenenti, diciamo, guardate che sta succedendo questo, quindi vi chiediamo di intervenire, perché in questo modo si discriminerebbe, si discrimina come si sta discriminando, diciamo, questi tre diritti che sono dei diritti importantissimi. Avete anche delle controproposte, delle alternative a questa strategia del governo, attuata dal governo con il Green Pass? Ci sono delle... Certo, è quello che diciamo, ecco, guarda, sì, la quale è stata la conclusione, appunto, di quello che ho detto? I test si pagano. Bene, fate i test gratuiti. Non solo, un'altra risoluzione del Consiglio d'Europa dice che non bisogna, diciamo, se non ci sono dati scientifici che dicono che con la vaccinazione si prevengono i contagi, bisogna comunque utilizzare tutte le cautele del caso. Bene, quindi il Consiglio d'Europa, secondo quella risoluzione, ci sta dicendo che dobbiamo fare i tamponi a tutti. Quindi che non basta il Green Pass, che non basta avere il tampone nelle 48 ore, che non basta avere il vaccino. Guarito, là pure c'è un altro discorso che non c'entriamo perché pure là scientifico, il guarito, nonostante a quanto pare dicono abbia il Green Pass per sei mesi, in realtà ha un'immunità maggiore e più duratura di quella del vaccinato. E torniamo sempre al discorso, allora si sta usando il Green Pass come ricatto per fare vaccinare le persone, ma questo l'hanno candidamente dichiarato tantissimi i nostri politici, che non bisognava fare i test gratuiti, i tamponi gratuiti, se no si disincentivava la vaccinazione e quindi deve essere un ricatto sulla tasca e sulle narici delle persone il vaccino e quindi questo sarebbe un obbligo sul rettizio. Un obbligo sul rettizio è in violazione di quelli che sono i principi del Consiglio d'Europa e i principi dello stesso regolamento europeo sul Green Pass, anche se quel regolamento era limitato al fatto dei viaggi internazionali, poi è stato utilizzato, diciamo, ultrapetita in tante altre, in tutto ormai in Italia. Se questo vostro appello venisse, diciamo, ignorato, avete pensato ad altre strategie o di continuare la vostra battaglia in altri modi? Allora, intanto di appelli come questi, diciamo, il Consiglio d'Europa è già, ho il dubbio che non risponderà, anche perché, devo dire, mi viene sospetto che questi diritti fondamentali siano stati barattati con la sostenibilità, perché ad un certo punto vedo che all'Assemblea del Consiglio d'Europa si parla soltanto di Green, eccetera, di Covid non si parla quasi più, né si parla, diciamo, dei problemi dei Green Pass, eccetera, zero. Si parla di Green, del diritto alla sostenibilità, bellissima cosa, assolutamente, poi vedo Draghi che rilancia sul diritto alla sostenibilità e ha in mano un lascia passare che si chiama Green. Non voglio pensare male, vedremo, però, diciamo, ho qualche, diciamo, comincio ad avere qualche preoccupazione, ecco. Mi interessa anche un altro aspetto, lei è un docente, come sta vedendo reagire i suoi studenti, i giovani in generale, anche a tutto quello che sta accadendo in Italia, quindi anche al prolungamento dello stato di emergenza, con tutto quello che ne consegue. Giovani sono assolutamente, dicono a pappagallo, nel 90% dei casi, tutto ciò che dicono i media, i politici e tutto e via dicendo. Ma questa è una cosa che io noto da molto prima, diciamo, di tutto quello del Covid, di tutta questa storia qui. È una cosa che noto già da anni, come ci sia un conformismo incredibile, anche nelle cose anticonformiste. Cioè, che so, non è che andare al Gay Pride è una cosa anticonformista oggi, anzi, è una cosa conformista, perché ti dicono, fai bene ad andarci, no? Cioè, ecco, sono tutti politici, ecco, sono conformisti con politica ricordate, mettiamola così. Questo è quello che vedo almeno nel 90% dei giovani. Ma questo si vede anche dal... insomma, non è che ci sono state, almeno qui a Palermo, chissà quali ribellioni per il Green Pass, anzi, tutte le associazioni studentesche a favore del Green Pass. Tutte, non ce n'è stata, una contro il Green Pass. Infatti non si sono organizzati mai per fare nulla agli studenti, perché venivano a mancare qualunque punto di riferimento, avevano un canale Telegram pieno di troll, praticamente, che non è servito, che rispondente è abortito dopo poco tempo, e basta, perché non avevano nessun punto di riferimento. Molti paesi europei non contemplano il Green Pass, o comunque anche quando lo hanno adottato, non lo hanno adottato in una maniera così radicale come sta facendo... Nessuno l'ha adottato come l'Italia. L'Italia, ripeto, come l'Italia dobbiamo andare all'Arabia Saudita per trovare un altro paese che ha adottato il Green Pass come noi, perché in Europa, neanche la Francia. Tutto questo nacque con Macron, c'era stata, due settimane prima, una visita di Mattarella, poi ci fanno gli europei, poi Macron subito dopo gli europei, Green Pass dovunque. Perfetto. E qua in Italia non si parlava altro di altro che del Green Pass in Francia, perché dovevano farlo pure qua. Poi alla fine qua l'hanno fatto su tutto e in Francia? Nì. Cioè nel senso che la prima è su assoluto è l'Italia, in Europa la seconda è la Francia. Ok? Adottare il Green Pass, ma non l'ha utilizzato per l'università o per la scuola e tutte queste cose qui. Gira una tabella che ha visto è molto precisa su Inter, in cui c'è il paragone dei vari paesi europei. Cioè Italia, tutto, tutto, qualunque attività, addirittura, le colf. Ora voglio capire. Chi è che controlla il Green Pass all'abbadante? Io, cioè, che viene la polizia in casa, entra in casa senza mandato a controllare se l'abbadante c'è il Green Pass, facendo violazione di domicilio. Adesso immagino un anziano che gli arriva l'abbadante e gli controlla il Green Pass. Cioè, siamo arrivati, dice, vabbè, facciamolo per qualunque cosa ci viene in mente. Qualunque cosa ci viene in mente, tranne per ora per i parlamentari, perché loro chiaramente sono al di sopra della legge. Ma diciamo, il discorso in Francia non è così. In Francia sono stati, non è stata, c'è stata la piazza, è vero, ma anche la sentenza della Corte Costituzionale Francese, che qua è stata riportata al solito, dicendo castronerie, diceva, la Corte Costituzionale Francese ha detto, ok, a Macron può fare il Green Pass. No, gli ha detto, lo puoi fare solo per queste cose e per queste no. Qualcora c'è gente, molta gente, siccome è convinta, perché si informa soltanto dai telegiornali mainstream, che in Francia ci sia il Green Pass come qui. Ne sono, molta gente ne è convinta, perché gli hanno detto che era così. Invece non è così. La Francia ha il Green Pass soltanto, diciamo, per alcune attività ludiche per lo più. Cioè, per i ristoranti, le discoteche, i locali, ma non per, diciamo, per l'università, la scuola, gli uffici pubblici e via dicendo. Proprio alla luce di queste differenze, di questo uso radicale del Green Pass in Italia, secondo lei cosa sta accadendo nel nostro Paese? Eh, allora, il rischio è quello che le dice, accennavo, che noi diventiamo un vero e proprio esperimento sociale. Cioè, vediamo che succede se utilizziamo il Green Pass per tutto. Perché, vede, il problema del Green Pass, il motivo per cui, per esempio, tra i mille, nell'appello quello dei mille professori di Barbero, di cui lei ha detto di Barbero, diciamo, Barbero l'ha firmato, non è uno dei promotori. Siamo felicissimi che l'abbia firmato, ma non è uno dei promotori. Tutti quelli di cui ho sentito, perché, ripeto, non è una domanda che faccio e che voglio fatta, vaccinato o non vaccinato. Spontaneamente, chiacchierando, l'hanno detto, tre quarti sono vaccinati. Ma quindi non è il problema, il problema, non è che il vaccino non il vaccino. Lei aveva parlato di Barbero. Barbero, a titolo suo, non del gruppo, diciamo, ha detto, dice, io preferisco l'obbligo vaccinale a questo punto. Almeno è sincero, almeno è onesto. non è una presa in giro. Lo Stato se ne assume tutte le responsabilità. Chiaro. Così, invece, no, ma tu l'hai scelto. Scusate, se uno è obbligato, se no perde il lavoro, il consenso informato è valido. Non dovrebbe essere un consenso libero informato. E se uno poi gli dice no, perché se no mi licenziano, non lo fanno vaccinare, lo licenziano. Cioè, siamo al paradosso totale. Perché lui deve firmare una cosa falsa. Perché là è lì perché se no lo licenziano, non è lì perché ha deciso che il vaccino è cosa buona e giusta. Perché questo è il punto che ha. Qual è la deriva che questo può avere? La deriva che questo può avere è che dei diritti fondamentali, che un tempo erano fondamentali, inviolabili, inalienabili, ora sono innati. Cioè, nessuno ce li doveva dare. Nascevamo cittadino e cittadino a questo diritto. No, ora siamo sudditi che devono fare qualcosa che ci ordina il governo per diventare cittadini. Perché per passare da suddito a cittadino devi avere un certificato di obbedienza a quello che ti ha chiesto di fare il governo. E questa è la cosa, se passa questo principio, è la fine. Torniamo al medioevo. E lei cosa ne pensa di questi, in questo periodo ci sono stati questi referendum da firmare? Ah sì, il referendum. Allora, il referendum è una cosa che, su cui ho detto non dividiamoci su questo. Perché, se è vero che i promotori lo fanno con grandissimo entusiasmo, non sono, ho sentito, ho visto dei post ridicoli, siccome Mattei aveva studiato in America, nell'università, che aveva preso un finanziamento da solo, allora lui faceva parte, dico, lasciamo stare queste M. perché proprio non si possono sentire, uno studente all'università, dico, trovate un'università che non ha preso un euro dalla Gates Foundation, non esiste, perché finanziano progetti di ricerca a pioggia dappertutto, quindi di che cosa stiamo parlando? Quindi le intenzioni, però è un boomerang, in questo momento può essere un boomerang, perché se è vero che nel momento che se si dovesse arrivare a farlo, comunque è un segnale che almeno ci sono abbastanza persone da promuovere un referendum, è vero anche che questo referendum, certo, non si fa tra un mese, ma si farà nel 2022, dico, anche avanzato, a mio parere, ma a quel punto se non cambia la narrazione dei media, la gente, è ovvio che poi siamo una minoranza, ma capito? Perché la maggior parte della gente non è che, purtroppo, non pensa con la propria testa, pensa con la testa del telegiornale, questa è la verità. Se gli dicono che una cosa è buona, la è buona. Allora, se gli dicono una volta che è buona, una volta che è cattiva, si crea un dibattito. Se gli dicono sempre che quella cosa è buona, è buona per almeno tre quarti di... c'è l'esperimento di Ascio del 1951, che lo dimostra in maniera equivocata, i tre quarti delle persone si conformano anche a risposte assurde, tipo qual è la linea più lunga, quella di 10 cm, quella di un metro, quella di 10 cm, perché lo dicono gli altri. Quindi è chiaro che non abbiamo speranza attualmente. Se ci fosse un referendum oggi lo perderemmo, lo perderemmo sicuramente, sicuramente, ma di brutto, ma di brutto. Quindi potrebbe essere un boomerang, questo è il punto. E potrebbe essere anche divisivo, perché poi a un certo punto c'è anche nel movimento, diciamo, del no pass, del no green pass, ci potrebbe essere chi è a favore e chi è contro, ci potrebbero essere attriti, viti, incomprensioni causate da questo. Io, sinceramente, fossi stato nei promotori, non l'avrei fatto in questo momento questa proposta. Quando è che si parla di un regime e quando è che si parla di totalitarismo? Quando intanto non c'è più la separazione dei poteri, cioè una prerogativa che la nostra Costituzione dava solo alla magistratura e al Parlamento, quindi secondo la legge, la piglia il potere esecutivo e ti chiude in casa con un atto amministrativo, un DPCM, che non è una legge, non è una legge, è una circolare, è un atto amministrativo, diciamo, non è nulla di più di questo, non è un decreto legge nemmeno, chiaro, ti chiude in casa, così, senza che tu hai fatto niente, così, perché potenzialmente potresti essere contagioso. Beh, fammi il test e vedi se lo sono. Allora mi metti in quarantena, che cosa giusta se sono contagioso? Green pass per dire, ora, oggi come oggi, c'è un caso, una mia amica, lei non vaccinata, non stata contagiata dalla sua amica vaccinata, la madre vaccinata si ammala pure, lei rimane asintomatica, la mia amica non vaccinata, tranquillamente, la madre, poi dopo due settimane è negativa, eccetera, eccetera. La madre rimane invece positiva per molto tempo, al venturesimo giorno, lei vaccinata, così, dico, lei può uscire, però ha una caricabilità molto alta, però ha il green pass. Allora, quindi, licenza di contagiare, dico, di uccidere, dico, speriamo, ma ha capito, dico, quindi, ecco, qua stiamo parlando semplicemente di un qualche cosa che, se volessero veramente la sicurezza sanitaria, la mia proposta all'Università di Palermo sarebbe stata accolta con gli applausi. Io dice, facciamo i test a tutti, facciamo i test a tutti, abbiamo il Policlinico, abbiamo, facciamo i test a tutti, così chi è positivo se ne va a casa, se ne sta a casa, si segue in DAD, sono quelli che sono, gli altri vengono tranquilli, che se lo fai poi al momento, non lo fai ogni totto, sei proprio sicuro, cioè, dico, tutto può succedere, ma la probabilità che qualcuno abbia una caricabilità alta, fare da contagiare, entra nell'Università, dopo che ha appena fatto il test, Sempre meglio che non fare nessun tampone, e fare entrare i vaccinati. Per 12 mesi. Esatto, perché poi entreranno solo i vaccinati, perché, noi si immagina, per esempio, all'Università di Palermo, dove c'è la possibilità di seguire in DAD pure, chi non è vaccinato, gli studenti, non vaccinati, si seguiranno da casa, alla fine, no? Quindi saranno, quindi voglio vedere poi come fanno a dare la colpa ai Novax, se c'è un focolaio all'interno dell'Università, perché dove sono tutti i Cold Green Pass, e di questi Cold Green Pass il 99% sono vaccinati. Di recente lei però è balzato agli onori della cronaca. La cronaca, chiamiamola cronaca. Per un tweet, un suo tweet, diciamo, abbastanza provocatorio, che era in risposta a delle parole, a un altro tweet di Enrico Letta. Sì. Vabbè, intanto questo la dice lunga sull'informazione, insomma, su... Appunto, chiamarla cronaca, diciamo, invece, un parolone, chiamiamolo gossip. Sì, si pone l'accento, diciamo, su una polemica, che poi alla fine è anche abbastanza sterile, per spostare a volte anche l'attenzione su questioni più importanti che ci riguardano, che riguardano le nostre vite, incidono proprio sulle nostre vite. Per chi non conoscesse questo piccolo aneddoto, ci racconta un po' cosa è successo, e poi... Penso che ormai in Sicilia l'ho vedo alzato tanto sui giornali questa fesseria, che apparentemente non la conoscono tutti. Però il punto è questo, Allora, Letta aveva scritto il vaccino è in libertà. Ok? Diciamo, quella scritta sul carcello di Auschwitz, il vaccino rende liberi, circola da un annetto, più o meno. E questa immagine su internet. Io l'ho semplicemente rituitato, mettendo quella e dico non fa una piega, cioè per la serie è uguale, lo stai dicendo tu. Stai dicendo quello che dicevano tutti quelli poi odiati Novax da un anno. E allora, chiaramente il senso di questo qual è? C'è chi di, ah, sei stato rispettoso delle vittime di Auschwitz, ma non mi pare, anzi mi sembra che, sto dicendo che quelle vittime non devono morire in vano, ma questo non lo dico solo io, lo dice, ve lascerà, che ha fatto una videointervista in cui lo spiega perfettamente, una delle poche ancora in vita, sopravvissute ai campi di sterminio. Quindi, non è che dico, anzi, anzi, tu dire la memoria, il giorno della memoria serve per ricordare, giusto? Non per scordare. È ovvio che non so, che quello non vuol dire chi si vaccina è come se andasse nella camera a gas. È giusto? Ma vuol dire che non ci deve essere, come dicevo prima, non ci deve essere un certificato, un qualche cosa che dobbiamo fare, che ci rende liberi. Come, appunto, è una presa in giro, no? Voi qua lavorate perché lavorando siete liberi nei campi di concentramento, no? Vaccinando sei libero, ma perché io non sono nato libero? Ora perché devo fare il vaccino per essere libero? O devo fare qualunque altra cosa tu mi dici per essere libero? Questo è il senso. Cioè, il senso è nella comunicazione, nel significato di quel messaggio rispetto al messaggio di letta. Cioè, nel senso che tu stai dicendo che uno è libero se fa qualcosa. Come dicevano i razzisti. Ma come dicevano, non è che sto dicendo, è chiaro, noi invece hanno voluto ricamare la Shoah, noi ce la ricordiamo appunto per evitare che gli succeda e è ovvio che alle prime avvisaglie ci deve scattare un campanello d'allarme prima di arrivare a quell'abominio. Spero proprio che non ci arriveremo mai. Dico, però, dico... Certo. Ricordiamo sempre che noi non stiamo dando nessun giudizio sui vaccini, su chi si vaccina o meno, ma piuttosto... Assolutamente, è assolutamente legittimo. riaffrontare l'argomento da un lato e dall'altro a volte diventa comunque... È sempre là questa dualità no-vax e pro-vax, no? Pro-vax, che vuol dire pro-vax? Pro-vax che cos'è? Uno che vuole vaccinare pure i mobili, non lo capisco, che cos'è un pro-vax? Cioè, è chiaro, certo, quando vedo certe cose tipo gli open day per le donne incinte qualche domanda me la faccio, perché dico le donne incinte non possono mangiare i sushi, non possono prendere le verdure e però si possono fare un vaccino e quei effetti a lungo termine sono sconosciuti e che va anche in un feto che ancora deve nascere quindi diciamo gli effetti a lungo termine c'è un bel po' di tempo per scontarli. Ecco, cioè, le cose vanno fatte con equilibrio, come non si deve, non c'è il dio vaccino, perché vede, qual è stato il problema per cui, per dire, nella mia università sono stato tanto attaccato insieme a altri miei colleghi, promotori, perché avevamo detto semplicemente una cosa facciamo i tamponi a tutti, cioè non è che era una cosa negazione, anzi, una cosa per maggiore sicurezza, sappiamo che c'erano molti studenti, c'erano persone che hanno paura del virus, se noi garantiamo questo stiamo, tra virgolette, in una botte di ferro, cioè la botte di ferro non esiste al 100% ma al 99%. No, il problema qual era? Che avevamo bestemmiato, era blasfemia, perché avevamo osato insinuare che il vaccino non è perfetto, che il vaccino non protegge dai contagi, dire che un vaccino si vede dai dati che ha determinate caratteristiche, che conviene a determinate persone, ad altri invece ci devono pensare sempre nella libertà di scelta, chiaramente, ma è usare la testa con il vaccino, non usare il vaccino al posto della testa, ecco, diciamo che questo è il punto. Va bene, io intanto la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, insomma, ci aggiorneremo per eventuali sviluppi riguardo anche questi appelli che sono stati firmati. Sì, anche diciamo i mille professori, diciamo, probabilmente ci sarà, si costituirà un'associazione, diciamo, si sta lavorando per questo.